Ciao, in questo video ti aiuta a connetterti con Minecraft insieme ai tuoi amici stando ognuno comodamente seduto a casa propria ed ognuno davanti al proprio pc quindi se stai cercando un video che ti insegni come connetterti con i tuoi amici senza avere un server Minecraft online e stando ognuno a casa propria questo è il video giusto che fa per te segui questo video dall'inizio fino alla fine e dal termine del video sarai in grado di connetterti con i tuoi amici senza avere un server Minecraft online esposto sulla rete internet pubblicamente poiché le tipologie di connessioni verso un pc che funge da server Minecraft sono diverse nel momento in cui tu utilizzi Minecraft Java Edition oppure Minecraft Bedrock Edition oppure ancora Minecraft Education Edition sto creando proprio tre video diversi per queste tre versioni differenti quindi crea un video per permetterti di connetterti con i tuoi amici se tutti avete Minecraft Java Edition un altro video per permettervi di connettervi insieme se tutti voi avete Minecraft Bedrock Edition ed infine un terzo video in caso voi abbiate tutti Minecraft Education Edition il video che stai seguendo ti permette di connetterti con i tuoi amici se tutti avete Minecraft Education Edition se ti interessa invece connetterti con i tuoi amici e tutti avete Minecraft Bedrock Edition allora clicca sulla scheda che sta passando ora in questo momento sul video oppure clicca sul link che trovi in descrizione se tu e i tuoi amici invece siete tutti su Minecraft Java Edition allora clicca su quest'altra scheda che sta passando in questo momento su questo video oppure cerca il link che trovi in descrizione ora se sei pronto a scoprire come ci si connette da casa con i tuoi amici in Minecraft non resta che vedere la sigla e poi iniziare tu nel frattempo iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare anche tutte le notifiche ora la sigla del canale e poi ci connettiamo tutti insieme ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video per poter essere tutti raggiungibili stando ognuno a casa propria abbiamo bisogno di un software e questo software si chiama Amaci vai sul sito vpn.net con il tuo computer e poi clicca sul pulsante download now a seconda della tua versione viene scaricato un determinato eseguibile esegui doppio clic su questo eseguibile e compare questa schermata il programma si chiama log me in Amaci seleziona il tuo linguaggio di installazione e poi premi next nella schermata successiva dobbiamo selezionare il check ho letto e accetto i termini del contratto di licenza e poi cliccare sul pulsante avanti nella schermata successiva ci viene chiesto dove individuare la cartella di destinazione dell'installazione del file personalmente non l'ho modificata e ho semplicemente cliccato il pulsante avanti nuova schermata ci viene chiesto se insieme a questo software vogliamo installare LastPass io l'ho deselezionato e ho cliccato semplicemente il pulsante installa in questo modo installa soltanto il software log me in Amaci parte la fase di installazione e la barra di progressione avanza fino ad aggiungere al completamento dell'installazione del software quando ci viene mostrata questa schermata lasciamo la selezione su avvia Amaci e poi clicchiamo anche il pulsante fine cliccando sul pulsante fine compare l'avvio del programma log me in Amaci e questa è la schermata che vediamo clicca su questo pulsante e compare una nuova finestra in cui ci viene chiesto di accedere ma noi ancora non abbiamo alcuna utenza log me in a questo punto quindi clicchiamo sul pulsante registrati la schermata cambia creiamo il nostro account inserendo la nostra valida email e una password anche io l'ho fatto come puoi vedere e poi clicca su crea account non appena viene creato un account la schermata del software cambia e compaiono due pulsanti crea nuova rete e partecipa a rete esistente ma prima di proseguire oltre accediamo alla nostra email perché ci è giunto sicuramente una mail da log me in in cui ci chiede di verificare la consistenza del nostro account di email quindi clicca semplicemente sul link che compare nell'email accedi con la tua mail e con la tua password clicca sul pulsante accedi e dalla fine compare questa schermata il tuo utente il tuo profilo è stato verificato puoi chiudere il browser e tornare alla schermata del software ecco è importante che te e tutti i tuoi amici abbiate completato tutti questa fase ognuno decidendo il proprio utente log me in ed ognuno installando nel proprio pc questo software allora quindi tu e i tuoi amici avete completato questa fase e siete tutti con questa schermata ognuno con il proprio utente a questo punto te oppure uno dei tuoi amici deve creare una nuova rete io ho qui a fianco un pc con un account log me in amaci ed ho già creato una rete il pc non sta sfruttando la wifi di questo computer ma è agganciato alla rete del mio cellulare quindi è come se questi due computer si trovassero in due case differenti proprio perché stanno su due reti internet differenti su quel pc cosa ho fatto? ho cliccato il pulsante crea nuova rete è creato la rete marco minecraft e sempre da quel pc ho specificato una password poi semplicemente ho cliccato il pulsante crea ora in questo pc ovviamente annullo perché la rete è già creata ed in esecuzione su quell'altro pc da questo pc e da tutti gli account che si vogliono collegare alla stessa rete te e i tuoi amici cosa dovete fare? cliccare su partecipa a rete esistente cosa che faccio anch'io adesso l'id della rete è quella che ha creato il mio amico nel nostro caso marco minecraft inseriamo la password che ha creato il nostro amico e poi clicchiamo il pulsante partecipa come vedete il programma sta cercando la rete opportuna e ha già trovato un pc connesso a questo punto io ho avviato minecraft education edition non è necessario che chi ha creato la rete log me in avvii anche il mondo minecraft lo può avviare chiunque dei tuoi amici comunque sia io l'ho avviato nel computer che sta qui di fianco e ora mi ci aggancio se non sai come ci si connette in minecraft education edition in modalità multigiocatore allora clicca sulla scheda che sta comparendo in questo momento su questo video io intanto clicco sul pulsante gioca il mio amico mi ha comunicato i codici per accedere al suo mondo e sono il cartello, il lama, il panda e l'agent clicco il pulsante conferma viene individuato subito il mondo che si chiama a scuola con minecraft clicco conferma e adesso attendo il suo caricamento una volta individuato il server e ci può impiegare parecchio tempo perché dipende comunque dalle vostre connessioni ecco caricato il mondo che è in esecuzione sul computer qui a fianco ora se io ricordo bene questo è il mondo che abbiamo giocato al rome videogame lab di cinecittà l'anno scorso il rome videogame lab è un evento che si tiene tutti gli anni presso gli studi di cinecittà ed io lì conduco dei laboratori minecraft quindi se siete curiosi di vedere quello che facciamo in quei laboratori segna di la data 17, 18 e 19 aprile a Roma dove ci sono io con tutto il mio staff ora entriamo in questo mondo che sto preparando che rappresenta una grandissima e bella aula scolastica e qui da qualche parte su quella serie arancione dovrei trovare il personaggio che sta ospitando il mondo eccoci qui, F5, F5 siamo tutti e due all'interno dello stesso mondo e stiamo giocando in modalità multiplayer ognuno da casa sua come vedi è stato più facile farlo che dirlo e finalmente ora sei in grado di connetterti da casa con i tuoi amici all'interno dello stesso mondo minecraft senza avere un server online se ti interessa adesso connetterti con i tuoi amici attraverso minecraft java edition allora clicca sulla scheda che sta comparendo in questo momento nel video oppure se tutti voi avete minecraft bedrock edition e volete connettervi da casa allora clicca su quest'altra scheda che sta comparendo in questo momento se hai imparato qualcosa di nuovo allora metti mi piace su questo video condividi il canale con i tuoi amici ed invitali ad iscriversi tutti insieme a questo canale attivando anche tutte le notifiche per non perdere i successivi video e visto che sei giunto a questo punto clicca sulle playlist che compariranno nella sigla finale per scoprire tante cose che si possono fare in minecraft ciao e al prossimo video ciao 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 ciao